L'anno scorso, a marzo, Demi Lovato ha fatto coming out affermando di essere attratta dalle donne, e di volere solo un'amicizia con gli uomini. La pop star americana, solo un mese dopo, aveva poi aggiunto un tassello in più rivelando di essere non binaria e conseguentemente di volere che tutti si rivolgessero a lei usando i pronomi dei Dem ovvero loro. Voglio farvi sapere che mi identifico nel genere non binaria, e che da ora in poi cambierò ufficialmente i miei pronomi in dei, Dem, aveva dichiarato. A poco più di un anno di distanza Lovato è tornata a parlare della sua sessualità e dell'identità di genere nel podcast Spout Podcast noto podcast in cui i VIP parlano della loro vita e non solo di ciò che li ha resi famosi, nel quale ha rivelato di essere arrivata ad una nuova consapevolezza. In realtà ho adottato di nuovo il pronome lei. L'ho fatto perché sono in costante cambiamento, alla fine sono proprio fluida. Alla domanda sul come mai avesse scelto di usare i pronomi loro e di essere non binaria la cantante risponde, un anno fa sentivo che la mia energia era bilanciata tra il maschile e il femminile, così che quando mi sono trovata di fronte alla scelta di entrare in un bagno e ho letto donne e uomini, non mi sentivo come se ci fosse un bagno per me, perché non mi sentivo necessariamente una donna. Non mi sentivo nemmeno un uomo. Mi sentivo solo un essere umano. Mi sentivo umana, né donna e nemmeno uomo, soltanto una persona. Loro era ciò che mi rappresentava in quel periodo, ma le cose cambiano. Si tratta solo di sentirti umano nel profondo. Recentemente, mi sento più femminile, quindi adesso potete usare il femminile quando vi rivolgete a me ha spiegato nel podcast Lovato che il 19 agosto pubblicherà il suo ottavo album che lei definisce più rock and roll. Come si vince dal suo profilo Instagram, quindi, la cantante vuole che ci si rivolga a lei sia con il pronome loro sia con il pronome lei. Real Video vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine, iscriviti e attiva la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi video.